Nel nome del Padre. Del Figlio. E dello Spirito Santo. Amen. O cara Santa Gaudenzia. A voi ricorriamo fiduciosi del vostro aiuto. Fortificateci nella fede. E nella fedeltà alla Santa Legge di Dio. Accrescete nei sacerdoti. L'amore della loro santificazione. E della nostra salvezza. Benedite i nostri bambini. E ottenete da Dio che fiorisca in molti di essi. La vocazione sacerdotale e religiosa. Fate che ritornino alla fede. E alla pratica di esse quanti se ne sono allontanati. Prendete sante le famiglie, e pura la gioventù. Liberateci da ogni pericolo, e flagello materiale e spirituale. Otteneteci infine. Che tutti possiamo raggiungere. Dopo la nostra morte. Il Santo Paradiso per cantare con voi. Le glorie e le misericordie di Dio. Per tutta l'eternità. Così sia. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Santa Gaudenzia. Pregate per noi.